ciao buongiorno sono andrea antichi pasture e oggi presentiamo one trout cos'è one trout one trout è un pellet morbido prodotto con la pasta da trote leggermente però indurito è un pellet galleggiante lo si può innescare singolarmente oppure abbinare a qualunque altra esca nelle sue colorazioni classiche giallo verde bianco oppure multicolor si possono insidiare qualsiasi tipo di pesci predatori specialmente la strota che in questo periodo invernale la fa da padronetti laghetti ciao 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 ciao